Benvenuti, sono Alessandro Vergine, il padrone di casa di questa splendida struttura. È una struttura, un'antica dimora storica, risale al 1700, divenuta poi nei primi anni del Novecento una splendida villa in stile Liberty, grazie alla dedizione di mio nonno Girolamo Vergine e ai sapienti consigli di un paesaggista fiorentino, il Porcinai, che ha arricchito questa struttura di giardini, tanti spazi verdi, fiori e piante provenienti da ogni parte. Dai primi anni 90 poi la struttura è stata adibita a sal ricevimenti, all'organizzazione di meeting e di ogni tipo di evento. La villa ha un'estensione di 10 ettari, li mettiamo tutti a disposizione dei nostri sposi, questo perché una delle cose più piacevoli è riuscire ad organizzare anche un ricevimento dinamico, quindi l'opportunità di sfruttare una zona differente della villa per ogni fase del ricevimento, quindi ambientazioni sempre nuove, emozioni sempre nuove, in modo tale che poi l'ospite si possa trovare anche nelle condizioni di poterla apprezzare in tutto e in ogni direzione. Attraverso questo portale che è alle mie spalle, un portale del 1200, gli sposi hanno l'opportunità di ricevere in questa zona tutti quanti gli ospiti per offrire il cocktail di benvenuto, una delle prime fasi del ricevimento, una delle più delicate e come giusto che sia iniziamo ad offrire a tutti i vostri ospiti le giuste comodità, oltre ai vari soft drink, succhi in alcolici, il prosecco di Valdobbiadene ed una serie di sfizierie che vengono servite tramite un servizio all'americana a tutti quanti i vostri ospiti. Questa è una delle tante zone presenti all'interno di Villa Vergine, adesso scopriremo anche le altre. Successivamente al servizio del cocktail di benvenuto ci si può prestare ad entrare all'interno della Villa per vivere insieme a tutti quanti i vostri ospiti tutte le altre zone che ci sono a disposizione. Abbiamo la possibilità di sfruttare appieno questi spazi di fronte alle fontane, a disposizione anche uno splendido gazebo che ha una capienza di 300 posti e sedere, altrettanti ne offriamo nella sala interna. A disposizione anche un pergolato con uno splendido giardino all'italiana composto da una serie di prati, tutte zone che ovviamente sono a vostra disposizione per l'organizzazione del vostro ricevimento. Villa Vergine inoltre mette a disposizione dei futuri sposi anche un incantevole suite, accogliente e raffinato in tutti i suoi particolari. Difatti una vasca con oli profumati è posizionata proprio ai piedi del letto e riusciamo a creare così anche un'atmosfera magica ed avvolgente. Nella zona benessere poi, che è adiacente, gli sposi possono anche rilassarsi e rigenerarsi grazie all'utilizzo del bagno turco, della sauna e della doccia emozionale. La suite poi si affaccia anche su un terrazzo privato, dal quale si può ammirare la splendida vista sul parco e si può godere anche della piscina a idromassaggio e della sua zona relax. Ovviamente un gradito omaggio viene riservato anche a tutti gli sposi. Villa Vergine inoltre vi mette anche nelle condizioni di poter organizzare il vostro rito civile qui all'interno con valore di legge. Abbiamo l'opportunità di poter organizzare il rito sotto uno splendido pergolato in fiore o in alternativa lì dove vi dovesse far piacere anche in stile americano su degli splendidi prati. A Villa Vergine siamo consapevoli che il ricevimento di nozze è un evento molto importante che necessita di una accurata progettazione. Non dimentichiamoci mai però che accanto alla progettazione l'altro aspetto fondamentale al quale ci teniamo moltissimo è la personalizzazione. Diamo sì all'opportunità ad ogni coppia di personalizzare nei contenuti e nei dettagli il proprio ricevimento di nozze. È un aspetto piacevolissimo quello della personalizzazione perché ogni coppia ha l'opportunità di esprimersi nel modo in cui desidera. Il risultato finale è l'organizzazione e la consegna di un chiave in mano di quel tipo di ricevimento che ogni coppia desidera. Sarete ovviamente seguiti dal nostro personale interno. Disponiamo di cucine chef interni, di una pasticceria, di un laboratorio del pane e di decoratrici che si affiancheranno a voi nell'organizzazione del ricevimento e nello specifico anche dell'allestimento di tutti gli spazi che andrete a scegliere. La cucina di Villa Vergine è unica e ricercata ed è sapientamente diretta dallo chef Lucien Palmieri ed è il risultato della fusione tra la genuità della tradizione salentina e la raffinatezza delle ricette della migliore gastronomia nazionale ed internazionale. Villa Vergine non è solo una location per cerimonie ed eventi ma soprattutto un'azienda a multiruolo in grado di portare tutta la propria qualità e professionalità in qualsiasi luogo. Difatti a partire dal 2013 con l'ulteriore consapevolezza dei molteplici gusti e delle esigenze della propria clientela il gruppo Villa Vergine ha affiancato Bon Ton, la linea catering di eccellenza pronta ad offrire in qualsiasi location un servizio altamente flessibile e personalizzabile. senza alcun limite di organizzazione e di gestione. Villa Vergine si trova nello splendido scenario del Salento, vi aspettiamo qui a Cudrofiano per realizzare ogni vostro desiderio.